botte risposta fall edition non il podcast che ci meritiamo ma quello di cui abbiamo bisogno mini puntate dedicate al mondo della nazionale maggiore ed i suoi target con chi con alcuni dei principali ct nt attualmente in carica una sola domanda molteplici punti di vista ruolo per ruolo indicaci i target le tue specialità preferite e ora via col podcast e parola i ct med 82 buonasera a tutti sono momento 82 e sono attualmente focci nt del banglash ringrazio tema per questa opportunità allora per quanto riguarda le diciamo il mio spazio preferirei oggi usarlo per un qualcosa di leggermente diverso poiché per quanto riguarda numeri statistiche ottimizzazione diciamo che altri molto problemi di me l'hanno già perfettamente snocciolate prima quindi non mi soffermerei molto sui valori numerici in sé per sé in questa puntata ma piuttosto sulle specialità che secondo me in una piccola azione che ha sotto i 200 utenti andrebbe ottimizzato spiego meglio per quanto mi riguarda secondo me almeno su altri che le nazioni vanno divise in quattro macro blocchi che sono principalmente diciamo le nazioni top che sono le nazioni quelli che hanno grosso modo sopra i 7000 squadre quindi partendo da argentina romania belgio francia olanda svizzera polonia spagna germania e ovviamente anche l'italia successivamente il blocco centrale che sono tutte le nazioni che vanno dalle 1500 squadre fino appunto alle 7000 il blocco diciamo successivo poi riguarda tutte le squadre che vanno dalle 200 più o meno alle 1000 squadre per paese e come ultimo blocco io metterei tutte le squadre che sono sotto i 200 utenti e ogni secondo me di squadra deve in base al blocco ottimizzare la sua la sua formazione le sue suoi roster sia per quanto riguarda le skills sia per quanto riguarda le specialità ora come dicevo è avere un portiere che principalmente sia un 20 in parate 15 in difesa o 16 o 21 in calci piazzati diciamo che questo tipo di target va bene per tutte le nazionali dall'italia che è il paese con più utenti in quasi 21 minuti utenti fino al kuwait che mi sembra che sia quello che ce n'abbia di meno adesso va bene per tutte le nazioni si possono fare in tutte le nazioni ovviamente pescate per mettere quello in cui vorrei concentrare più sulle specialità e mi spiego meglio a meno per quello che mi riguarda fino a questo momento ho avuto un paio di esperienze in nt questa è la seconda dove ovviamente non ha nessun tipo di senso portare i giocatori no spec a meglio che non siano portieri per cui portiere sempre meglio averlo imprevedibile se possibile con almeno un 7 8 di passaggi a prescindere che sia un portiere secondo me che abbia 19 o 20 in calci piazzati in parate poiché secondo me è meglio avere un portiere imprevedibile 19 in la parità di difesa 19 in parate piuttosto che averlo 20 ma senza specialità almeno per quello che mi riguarda per quanto riguarda invece il blocco difensivo diciamo terzini terzini tiratori dc e dco che in questo caso fanno la stessa cosa come detto non parlerò molto del target perché tutti vorremmo il terzino 17 17 99 o il dco 17 18 di piazzati ma spesso sappiamo che non è fattibile spesso un nazionale piccola può portare un solo giocatore a target e spesso poi ci arriva anche che non è in forma quindi diciamo che è molto più limitata quella scelta io mi concentrerei più quindi sulla scelta delle specialità e a differenza di quanto sento in giro per la mia esperienza preferirei portarmi sempre compitore di testa dietro a prescindere veloci e come ultima battuta mi potrei portare anche un imprevedibile perché questo? innanzitutto perché essendo un'azione piccola è molto probabile che giochi in molti più partiti in CA quindi innanzitutto il veloce mi dà la possibilità di fermare i veloci opposti anche se poi ho notato che non è sempre così c'è una specie di leggenda che io ho preso sempre per buona che riguarda appunto la possibilità di fermare il difensore opposto fermi sempre il 100% al 100% l'attaccante o l'ala o il centrocampista dell'avversario se si trova appunto nella posizione esattamente opposta ho potuto verificare che non è così però diciamo che ha una buona percentuale di stoppare gli avversari e poi soprattutto perché sempre per quello che riguarda il mio mini studio che non è stato pubblicato in nessun forum quindi non ha alcuna valenza però per quello che mi riguarda il numero di veloci difensivi diciamo quelli che non fanno in cronaca lo special event hanno un'influenza sostanziale anche per quanto riguarda il conteggio dei veloci per la scelta dell'SE quindi avere tre veloci dietro comunque sia aumenta il numero dei veloci diciamo e quindi la possibilità di far generare lo special event ultima ma non meno importante motivazione è il fatto che gli imprevedibili come lo dice la parola stessa ma come tutti voi ben sapete hanno la possibilità di generare lo special event sia positivo che negativo spesso diciamo la metà delle volte è positivo la metà è negativo spesso dipende anche dal valore che hanno in passaggio e quindi avendo potenzialmente giocatori che non saranno ottimizzati in passaggio comunque se non lo saranno come quelli avversari se posso scegliere tra due giocatori perfettamente identici preferisco tenermi un veloce piuttosto che un imprevedibile o un colpo di testa piuttosto che un imprevedibile ovviamente colpo di testa sempre preferibili secondo me in tutti i ruoli diciamo che i veloci me li tengo sui terzini perché molto probabilmente gli avversari saranno veloci anche perché poi i tiratori sarebbero spreca per un colpitore di testa piuttosto che un veloce quindi diciamo che specialità preferita è colpo di testa veloce in seconda battuta se non c'è di meglio imprevedibile stesso discorso per tutti gli altri ruoli quindi sia per quanto riguarda i centrocampisti sia per quanto riguarda le ali che per quanto riguarda gli attaccanti normali per quanto riguarda le ali ovviamente la preferenza è sul veloce il colpo di testa va bene va più che bene diciamo che è sicuramente una delle mie specialità preferite così come per i centrocampisti va bene anche colpitore di testa o veloce per i centrocampisti l'imprevedibile mist può star bene perché qui avremo di norma centrocampisti che saranno sopra l'11 o 12 in passaggio quindi molto difficile che mi faccia uno special event negativo e quindi qui magari è un pochettino più apprezzabile avere un imprevedibile ovviamente rimanendo con i standard classici 19 in regia e 11 almeno in difesa per quanto riguarda le ali preferisco invece il veloce ovviamente ovviamente con il colpo di testa anche qui come seconda battuta imprevedibile come terza scelta gli attaccanti sempre veloce colpo di testa imprevedibile come scelta diciamo che di norma giocando una formazione ideale in 4-4-2 in CA giocherei con un colpo di testa non imprevedibile o anche uno sventrapavero ovviamente se ci fosse la necessità il must nel 3-5-2 classico ideale sarebbe giocare con un veloce secondo me e uno sventrapavero perché colpito di testa ne posso avere tanti altri in altre posizioni come per esempio anche un ala o un centrocampista o un difensore per quanto riguarda appunto lo sventro ovviamente deve essere per forza potente messo a peccante norma e quindi diciamo che di norma io mi concentrerei su questi ruoli qua avere più veloci di etro rispetto agli altri e le altre specialità personalmente ne escluderei quasi del tutto lo imprevedibile a meno che proprio non lo debba usare per manicanze alternative il colpo di testa ovviamente è sempre molto apprezzato e poi ovviamente adesso abbandonando un attimo le specialità concentrerei le skill sul fatto che giocheremo molte partite in CA quindi magari aumentare un pochettino i passaggi sui difensori a discapito magari di cross e di regia di cross per i terzini ovviamente di regia per i dc magari le ali fare qualche comunque sia qualche allenamento in difesa se ce l'ha molto bassa nativamente quindi portarle almeno a 6 sarebbe una buona idea secondo me qualora fossero proprio sprovviste di difesa altre ruoli non ottimizzerei più di tanto dicevo i centrocampisti magari averli difensivi farebbero più comodo quindi avere un 4-4 con un centrocampista che sia 19 in regia magari un 12 in difesa sarebbe perfetto oltre ad avere i calci pezzati abbastanza ottimizzati secondo me tutti devono avere almeno dagli 8 in su in modo da sfruttare anche i contropiedi che finiscono i calci in posizione indiretti e soprattutto avere un tiratore sopra il 22 in modo da poter sfruttare magari anche quelli diretti qualche volta quando ci sarà la possibilità per il resto secondo me le skills vanno bene quelle che hanno studiato tempo fa da Stellicon tutti gli altri con Ciuffo o gli altri perché vanno bene per qualsiasi nazionale basta conoscere un minimo di matematica per capire che sono ottimizzate per far bene dappertutto infatti tutte le hanno poi copiate in tutti i forum di tutte le nazionali del mondo detto questo visto che sono passati già parecchi minuti ringrazio Dema un ottimo format speriamo che continui così un saluto a tutti e ci vediamo su altri e abbiamo concluso anche la settima puntata del botte risposta full edition con mad mi fa molto piacere averlo avuto come ospite perché dovete sapere che io iniziai la mia avventura nel mondo dei nazionali con l'italia nt e con la mongolia under 20 trainata proprio da mad quindi fu una bellissima esperienza ero ancora agli inizi quindi non capì al 100% quello che stavo facendo o comunque non avevo non mi ero goduto la parte anche tattica che ci si preparava con mad al 100% perché per me bisogna fare tutto a piccoli passi quindi lo consiglio a chiunque che sta ascoltando questo podcast e è interessato un po' il mondo e le nazionali vi suggerisco di chiedere se c'è spazio nell'italia come scout per capire un po' i meccanismi andare anche in uno staff all'estero perché veramente ci sono gruppi di whatsapp telegram dove ci si confrontano nel gioco si imparano tante cose che potrete anche applicare nel vostro club al netto di questo passando a quello che si è parlato in puntata anche qui avete potuto vedere come una visione un po' diversa abbiamo sentito in varie puntate quello che ha voluto far passare mad è che abbiamo sentito i vari target e le varie specialità da una prospettiva di big qui si passa anche a un'altra prospettiva magari di qualche nazionalina anche quando magari vi candidate vincete le elezioni in una nazionalina asiatica comunque sotto quei 200 utenti anche meno di 100 in alcuni casi dovete mettere su una squadra e sicuramente farete magari fatica in tante situazioni fuori casa essere ottimizzati magari nel contropiede potrebbe essere un'ottima mossa per sopperire a situazioni di difficoltà e per ottimizzare il CA avete sentito un po' le skill su cui far leva un po' più di passaggi sulla fase difensiva magari i centrocampisti sia nel centrocampo che le ali con un po' più di difesa una skill in più che ottimizza un 4-4-2 una linea 5 e tutte queste cose aiutano un po' a essere ottimizzati si vede anche la skill ma anche l'ultimo punto che posso sottolineare è la specialità veloce si vede proprio l'enfasi che Med fa magari sovverte anche un po' la gerarchia precedentemente sentita sicuramente la skill veloce la specialità veloce blocca vari eventi che una squadra in possesso può avere come l'attaccante come le ali insomma una squadra che è organizzata per andare a vincere quelle specialità però se una linea 5 con tanta possibilità di scelta dei difensori si può mettere a un topo alle altre varie specialità sicuramente essere pronti con i veloci e poi comunque ricordiamoci che la specialità veloce della cintola in su supporta la tattica quindi è molto molto importante avere questa specialità anche e soprattutto se si vuole giocare contro piede con questo io ringrazio Med per la puntata e il suo punto di vista e ci sentiamo alla prossima puntata un salutone Dema